perdi piede un racconto di alberto moravia ho cominciato a perdere piede subito appena nato per via del mio viso che manca completamente di mento non è una parte importante del viso il mento meno importante assai del naso degli occhi ma se vi manca non so perché tutti vi prendono per scemo basta continuai a perdere piede restando orfano a 13 anni e poi ne persi ancora andando a stare con una mia zia contadina in ciociaria dove mi ero ridotto a vivere come una bestia e poi ancora restando un giorno e una notte sotto le rovine della casa quando fu bombardata quindi guerra tedeschi alleati fame dopo guerra borsa nera scatolette e non feci che perdere piede se la vita è fatta a scale come dice il proverbio e c'è chi le scende e c'è chi le sale e io quelle scale della vita non ho fatto che scenderle sempre per colpa di quel mento che non c'era e avrebbe dovuto esserci le ho discese a tal punto che quando un anno fa trovai da dormire presso un portiere del centro di ruma e poi cominciai a campare metà di elemosina e metà di servizietti in quella stessa strada dove era la portineria mi sembrò di salire per la prima volta da quando ero nato non ci crederete ma fu proprio la mancanza del mento a salvarmi quella era una strada di grossi negozi di alimentari come dire pizzicherie bottiglierie vapo forni macellerie drugherie e tutti quei negozianti pieni di clienti avevano bisogno di qualcuno che portasse i pacchi ritirasse i vuoti andasse qua e là per commissioni e vedendomi senza mento ma robusto quei bottegai ebbero compassione di me e così ora con uno ora con un altro mi feci parecchie poste e potei contare su un buon numero di mance e c'erano anche nella strada quattro cinque tra osterie e trattorie e anche gli osti sempre per compassione del mento mi davano ogni tanto una minestra avevo una camicia militare e un paio di pantaloni con le ginocchia rattoppate qualcuno mi diede una giacca con i gomiti sfondati ma per il resto ancora buona e qualcun altro un paio di scarpe basse e insomma come mi dissi dopo un mese ormai non perdevo più piede anzi decisamente ingranavo una strada la gente la percorre in macchina o a piedi e gli sembra una strada come tutte le altre ma a viverci come facevo io senza mai uscirne dalla mattina alla sera una strada è un mondo che non si finisce mai di approfondire in quella strada in cui conoscevo perfino i gatti c'erano quelli che mi volevano bene c'erano quelli che non mi volevano né bene né male e poi c'erano quelli che mi volevano male i negozianti e gli osti mi volevano bene perché ero servizievole e alla mano il barbiere la merciaia il profumiere il farmacista e tanti altri non mi volevano né bene né male perché io non avevo bisogno di loro e loro non avevano bisogno di me e poi finalmente un gruppetto di giovanotti che si davano appuntamento al bar della torrefazione e quelli mi volevano proprio male erano tutti sportivi che passavano il tempo ad accapigliarsi per le squadre di pallone e per le corse in bicicletta e si vede che lo sport rende gli uomini cattivi facendoli parteggiare per il più forte e odiare il più debole e io ero il più debole e loro appena entravo nella torrefazione mi prendevano di mira con nomignoli e con canzonature mi chiamavano perdi piede perché un giorno avendomi fatto bere all'osteria mi ero lasciato andare a spiegare come dalla nascita non avessi fatto che perdere piede e mi davano delle commissioni finte mi domandavano canzonando perdi piede l'hai perduto ancora il piede oppure mi consigliavano seri e guarda per il tuo bene dovresti farti crescere la barba così nessuno più si accorgerebbe che non c'ha il mento consiglio perfido perché la barba chissà perché io non ce l'ho appena qualche pelo lungo e molle ma niente barba e tuttavia nonostante questi giovanotti senza cuore io come ho detto ingranavo ossia riuscivo a campare anzi vedendomi per la prima volta in vita mia vestito e nutrito con un letto e un tetto e persino qualche soldo in saccoccia mi meravigliavo e quasi non ci credevo e mi ripetevo facciamo corna ma vuoi vedere che non la dura e facciamo corna non durò infatti una mattina d'estate entrando nella torrefazione per rilevare una cassetta di lattine di petrolio da portare a un cliente notai che quel solito gruppetto degli sportivi avevano qualche cosa che gli interessava stando tutti in piedi in cerchio in fondo alla bottega dignitoso però mi avvicinai al banco fingendo di ignorarli ma loro mi avevano visto e mi chiamarono oh per di piedi vien po qua guarda po chi c'è non volevo dargli retta ma qualcuno mi afferrò per un braccio e dovete arrendermi dunque in fondo alla bottega seduto su una seggiola contro una piramide di rotoli di carta igienica c'era un uomo che si tirava i capelli si dava i pugni in testa e piangeva era vestito di un paio di pantaloni di velluto e di una canottiera sbracciata piangeva e gemeva ma si tirava i capelli e si dava i pugni in testa con una sola mano perché era monco e al posto della mano ci aveva una cosa rotonda e liscia simile ad un piccolo ginocchio poi al suo il viso che era nero di barba e tutto schiacciato e vedi che era anche guercio ma l'altro occhio valeva per due è vivo scintillante pieno di malizia quei giovanotti mi spiegarono che era un disgraziato più disgraziato di me non soltanto orfano non soltanto sinistrato non soltanto sfollato e non soltanto monco non soltanto guercio ma anche sciancato e aggiunsero che lui era il mio concorrente ormai perché aveva già trovato da dormire in un sottoscala in quella stessa strada e avrebbe campato di servizi come me e insomma era venuto per spiantarmi a te manca solo il mento e magari un pezzo di cervello disse uno di loro ma a lui mancano una mano un occhio e perfino è sciancato sei battuto per di piedi sei battuto io dissi che ci avevo da fare e feci per ritirarmi ma quelli mi trattennero dicendo che dovevamo stringerci la mano visto che eravamo i due più disgraziati della strada e così ci stringemmo la mano e poi il monco che era un furbo di tre cotte ricominciò la commedia strappandosi i capelli dandosi il pugno in testa e gridando lasciatemi non voglio più vivere voglio morire vado a buttarmi a tevere sicuro a tevere vado a buttarmi e insomma mi toccò assistere ad una scena così finta che mi veniva da vomitare e tanto che dissi alla fine ma che tu a tevere non ti ci butti sta tranquillo ce lo dico io lui mi guardò con quel suo occhio e gridò ah non mi ci butto eh ora vedi io ci vado adesso ci vado ci vado subito ci vado e fece il gesto per alzarsi e uscire e andare al tevere che infatti non era lontano morale lo trattennero gli dedero qualche soldo e poi quando andai al banco e dissi beh quelle lattine mi senti rispondere e perdi pie abbi pazienza quelle lattine oggi le facciamo portare a lui che è tanto più disgraziato di te un po per uno non fa male a nessuno insomma lui dopo un momento si asciugò le lacrime a chi appocano la sola mano la cassetta delle lattine se la fece volare sulla spalla e arrancando con la gamba corta tutto arsillo uscì dalla torrefazione ed io rimasi a mani vuote con quei giovanotti che mi canzonavano ripetendomi che era arrivato il concorrente e che dovevo stare attento altrimenti lui mi soffiava la posizione loro scherzavano ma invece era proprio la verità e col fatto di essere monco guercio e sciancato di dare smanie e piangere e darsi il pugno in testa ad ogni occasione quella canaglia di bettolino così lo chiamavano perché gli piaceva alzare il gomito e le sere le passava all'osteria fece presto a soffiarmi parecchie poste entravo in questo in quel negozio mi presentavo per il solito pacco per la solita commissione mi sentivo dire abbiamo incaricato bettolino abbi pazienza ha più bisogno di te sarà per la prossima volta e così andai avanti un mese più sempre sentendomi dire bettolino c'ha più bisogno di te abbi pazienza e io pazienza ce n'avevo ma capivo che non poteva andare avanti in questo modo e bettolino sempre piangendo e dandosi il pugno in testa e dicendo che voleva buttarsi a tevere avanzava e io di nuovo come prima peggio di prima perdevo piede finalmente la goccia che fece traboccare il vaso fu la risposta che mi diede quello del vapo forno un giorno che mi rivolse a lui per una commissione senti per di pie mi pare che tu stia esagerando sei forte sei giovane sei svelto ma perché non ti cerchi un lavoro normale e bettolino capisco gli manca una mano un occhio ed è sciancato ma tu non ti manca niente perché non vai a lavorare che potevo rispondere che mi mancava il mento ma con il mento non si lavora non dissi nulla ma da quel giorno capì che in quella strada ormai non c'era posto per tutti e due o io o lui una di quelle mattine mi ricordai che c'era una cassetta di bottiglie di acqua minerale da portare ad un cliente e che per una combinazione bettolino quella stessa commissione l'aveva fatta il giorno prima così che oggi toccava a me andai dunque di filato alla cassa della torrefazione e dissi al padrone sono venuto per quelle bottiglie il padrone stava facendo i conti e non mi rispose subito e poi senza alzare la testa gridò e dategli un po queste bottiglie ma il garzone del bar rispose e le abbiamo già date a bettolino per di pie se è venuto in ritardo le abbiamo date a lui credevamo che tu non venissi più ma si è presto incominciai smarrito e già furente beh lui è venuto prima di te non so che farci domandai ma è un pezzo che è uscito o no sarà un momento dissi ora l'aggiusto io e usci dalla bottiga dovevo avere un viso sconvolto perché quei soliti giovanotti dello sport che avevano assistito alla scena mi seguirono in massa nella strada e bettolino infatti arrancava 50 metri più in là sul marciapiede la cassetta delle bottiglie sulla spalla lo raggiunsi di corsa gli acchiappai il braccio con il quale reggeva la cassetta e gli dissi ansimante metti giù queste bottiglie oggi tocca a me e lui si disse ma che sei scemo aggressivo ti dico di metter giù quelle bottiglie ma tu chi sei sono uno che se non le metti giù ti fa passare la voglia di campare ma che lo dice lo dico io insomma lottammo un momento e poi io gli diedi uno strattone e la cassetta cascò per terra e le bottiglie si sfasciarono allagando il marciapiede di acqua minerale lui subito ipocrita cominciò a urlare rivolto agli sportivi che ci avevano seguiti e ora ci circondavano ah siete tutti testimoni le bottiglie le ha sfasciate lui eh siete tutti testimoni eh io allora persi del tutto la testa avevo un coltellino in tasca lo strinsi mi slanciai su di lui la guantai al petto e feci permenare gredando tu devi andartene hai capito devi andartene la gente strillò vedendo il coltello qualcuno mi acchiappò il polso storcendolo il coltello cascò in terra un ragazzino svelto lo raccolse e intanto bettolino urlava saltando in qua in là mi vuole ammazzare aiuto mi vuole ammazzare ma poi vedendo che mi trattenevano e che non c'era pericolo per lui davvero vigliacco mi tirò un colpo in faccia duro come una sassata con l'osso del braccio monco a questo colpo cacciai un mugito mi svincolai e mi gettai su di lui ma lui con tutto che fosse zoppo era svelto e si nascondeva ora dietro uno ora dietro un altro di quei giovanotti sempre gridando che volevo ammazzarlo e io gli correvo dietro e ormai vedevo rosso ed ero come un toro che corre qua e là dando cornate e la gente scappa dove può e il toro le cornate le dà all'aria correvo e la folla si apriva e poi si riuniva di nuovo e bettolino sempre mi sfuggiva finalmente un certo renato il più forte del gruppo degli sportivi mi agguantò per le braccia dicendo e pianta ma no e stai fermo bisogna dire che ce l'avessi con lui almeno quanto ce l'avevo con bettolino perché mi voltai e gli diedi un pugno in faccia e questo pugno mi perdette ne ricevetti subito uno che mi fece ruzzolare in terra e quando mi rialzai mi sentii prendere per il braccio da un agente e mi trascinarono via che perdevo sangue dal naso con un codazzo di gente che ci seguiva con bettolino che da lontano continuava a gridare che avrei voluto ammazzarlo il coltello fu ritrovato e così mi condannarono quando uscì di prigione capì che con bettolino avevo perduto piede definitivamente e non mi feci più vedere in quella strada chi perde piede non lo rimette dove l'ha perduto